Musica 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 Pronto Otto Para Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info GIOVALACIÓN Ehi cagliere, cammina proprio piano, per il cagliere Cammina proprio piano, per il cagliere Cammino proprio piano se vuol, la mano non ci sentirà Se vuol, la mano non ci sentirà Se la ci senti non ci dare, non ci dare, non ci dare, non ci dare Grazie a tutti. 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 Saluto oggi il sindaco facente funzione Antonio Terra, tutte le autorità civili e militari intervenute. Grazie a tutti. Come sapete, celebriamo il 67esimo anniversario della Fondazione della Liberazione e il 76esimo della Fondazione di Aprilia. La cerimonia istituzionale prosegue con l'intervento del sindaco di Aprilia Antonio Terra, cui passo la parola. Grazie. Grazie. Insieme all'istituzione di Aprilia, insieme all'estituzione dell'estituzione avriliano alla celebrazione del 25 aprile. Ecco, è un'emozione che ho assunto oggi l'onore di ricordare le migliaia di vittime, militari e civili che hanno combattuto per la libertà e per essa hanno perso la vita. Un'emozione amplificata dalla dipartita dell'amico Domenico D'Alessio, un sindaco che aveva ben chiaro i miei... Oggi, consunto le funzioni di sindaco, confermo l'impegno dell'intera amministrazione per il rispetto della memoria storica e dei caduti della liberazione. Nonostante siano trascorsi 67 anni, le immagini degli orrori del conflitto mondiale rimangono nitide e vive nel ricordo di tutti noi. La nostra comunità non può non dimenticare perché questo territorio è stato teatro della più aspra battaglia. Qui si fronteggiarono gli eserciti in tre lingue diverse e a centinaia qui persero la vita, lasciando solo macerie, morte e desolazioni. Per questo la città di Avriglia è stata inserita nel circuito delle celebrazioni per l'anniversario dello sbarco di Anzio. La nostra terra ancora porta i segni tangibili di ciò che è stato e quasi quotidiano il rinvenimento di reperti bellici sul nostro territorio, mentre frequente è l'attenzione dei media internazionali, soprattutto la visita di reduci e parenti di chi ha combattuto in questa terra e non ha mai fatto ritorno a casa. Addirittura nel 2004 i ufficiali della Polizia Locale hanno rinvenuti i resti di due soldati inglesi caduti in battaglia, a cui solo dopo alcuni decenni e solo grazie a quel ritrovamento è stata data degna sepoltura presso il cimitero di guerra di Anzio. Nel corso della passata estate una truppa televisiva della BBC ha effettuato delle riprese a campo di carne, pulcro e luogo simbolico della guerra, per la realizzazione di un documento seguita anche da un imponente studio dell'associazione Ligna Gustav, insieme alla quale l'amministrazione ha collaborato per promuovere le visite di tre soldati inglesi, reduci presso il monumento e il graffio della vita realizzato in memoria di tutti i caduti. E' notizia di pochi giorni fa che di alcuni funzionari, ci siamo venuti a trovare alcuni funzionari del Pentacolo, accompagnati dalla nostra Polizia Locale in zona di Possegnano, dove cartine e coordinate geografiche indicavano il luogo dove fu abbattuto un aereo statunitense di ritorno ad una missione. L'esito positivo della ricerca è stato possibile anche grazie all'aiuto dei residenti della zona, testimoni oculari o eredi di chi vide precipitare quell'aereo spontaneamente, diede degna sepoltura alle vittime. Per questo motivo invito i giovani a coltivare la memoria, ad ascoltare i nostri padri, i nostri nonni, testimoni di storia, di storie profonde, di profonda umanità che tutte insieme rappresentano una storia di Aprilia e dell'Italia tutta intera. La memoria deve renderci orgogliosi di celebrare la festa della liberazione, una giornata che resta un caposalto della nostra democrazia e delle nostre istituzioni di comunità. Oggi il nostro pensiero non può che non tornare ai tanti soldati italiani impegnati all'estero in missioni di pace e a chi per questo ha sacrificato la propria vita, come il nostro capolato maggiore Massimo di Legge e aiutato... ...e ai tanti ragazzi che hanno condiviso lo stesso destino. E al cuore il mio pensiero va anche ai due marotte tenuti in India finché la loro vicenda si concluda nel migliore dei mondi. Oggi Aviglia celebra anche la sua fondazione, 76 anni fa è stato tracciato il nostro sorco e fu posta la prima pietra della nostra città, nata grazie anche all'imponente lavoro di bonifica delle paludi, pontine e al sacrificio di centinaia di pionieri. E anche a loro che rendo oggi il mio omaggio, più sincero, così come testimonio il tributo dell'amministrazione dell'intera cittadinanza italiana ai reduci che nel dopoguerra scelsero questa terra per vivere e contribuirono con la forza del loro lavoro alla rinascita di questa città di sviluppo dal conflitto mondiale. A loro va la nostra gratitudine sincera. Qualche giorno fa ci ha lasciato uno di loro, il pioniere Emanuele Carissimi, e da lui rendiamo l'ultimo saluto riconoscente. Con questo spirito ufficialmente chiudiamo la celebrazione del 75esimo compleanno della Fondazione. Ancora una volta ci faremo rispettosi, portavoce di questi esempi e amministratori consapevoli dell'importanza della memoria. Io vi ringrazio tutti e come diceva il nostro amico Domenico D'Alessio, viva Aprilia, viva l'Italia! Ringraziamo il Sindaco Facente Funzione del Comune di Aprilia e Correttonio Terra. Ancora una volta voglio ringraziare tutti voi. Prima di chiudere con un altro omaggio da parte della campagna dei consiglieri, voglio invitare gli intervenuti a un piccolo rinfresco all'esterno offerto dall'amministrazione comunale apriliana. Naturalmente questa sera alla rappresentazione al Teatro Europa di Strapanel sono giorni che non so come descriverli. Un allestimento teatrale realizzato grazie al contributo del Comune di Aprilia per il 75esimo della Fondazione. Il testo è tratto dai diari di guerra di Anna Ridolfi che nei periodi drammatici della Seconda Guerra Mondiale era una adolescente cittadina apriliana. Detto questo, ancora grazie e passo la parola alla musica. Grazie. Grazie. Pronti? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.